Ehi, ciao a tutti ragazzi, quest'oggi ho in faccia delle cose strane perché ci troviamo su Facebook! Ragazzi, sono sincero, questo video lo sto facendo soltanto per un motivo. Mia mamma mi sta rompendo il cazzo da tipo due settimane. Mia mamma è fan di questi video, quindi mamma... Agoni! Sto facendo questo video espremamente per mia mamma, quindi... Oh mio Dio, guarda! È il cielo! Oh madonna! È una casa! Salve, io sono Paola, Paola della team. Allora abbiamo un'offenza che non può rifiutare. Sono più a capersa. Cosa guardi? Sai quanto è difficile la vita per noi pupazzi? Beh, vabbè, non lo faccio più. Non lo faccio più! E' laggato! E' laggato! Sono un pupazzo di neve ubriaco. Signore, Cupido è arrivato! Signore! Credo di essermi cagato sotto! Che top! Tu che mi stai guardando, tu non capisci! Tu non puoi capire la dura vita di un cane! Io, ad esempio, io sarei dovuto nascere Aski! Invece no! Invece no! Tutti, tutti, tutti gli umani che mi guardano dicono Perché non hai gli occhi blu? Sto cazzo gli occhi blu! Sto cazzo! Ti mangio la mamma! Ti mangio la famiglia! Schifoso! Però sono carino e lo posso fare! C'è un umano! Bau! 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 Che sorriso, donne! Ciao a tutti! Mi presento! Io sono DarkMinecraft442 Io sono l'hater di tutti gli youtuber Perché io sono ribele! Io vado sotto i video delle genti e gli scrivo ciccione! Perché io sono un ribele! Io ieri sono andato sotto il video di cicciogamer e gli ho scritto cornetto alla nutella! È difficile la vita da ribelle, eh? Non è facile! Ogni giorno dover aspettare un video per andare a commentare ciccione non è facile! No! No! Ci sono anni! Anni! Anni di studio per far questo! Anni! Anni! Ah! Cornetto! Oh! Kawaiii! Kawaiii! Tsugoi! 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 Mi hanno nuovamente cagato in testa! Leva stu cosa! Fa il culo! Prova a vivere tu con questo smocciolo attaccato al becco tutta la vita! Volevo nascere pavone! Dammit! Ieri ho stuprato una minorenne! Chi vuole giocare a tagliamo la testa al toro? Io faccio quello che taglio e voi fate il toro! Chi vuole? Chi vuole? Tiii! Oggi si gioca! Questa era la mia faccia quando ho visto... Che sorriso, signori! Allora, cosa posso dire di me? Allora, io mi chiamo Carlotta e sono una ragazza che c'è un po' sobria, un po' così... C'è un po' di catarro perché l'altra sera mi sono ubriacata con gli amiche e... E niente, poi... Sì, se non sbaglio... Forse mi hanno stuprata... Però è stato bello! Io sono Brnau e la gente il 99% delle volte non si ricorda il mio nome! Oramai mi chiamano tutti Coso! Tutti! Tutti! Coso vieni qui! Coso vieni lì! Coso, 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 Coso! Mi chiamo Brnau! Che nome, donne! La mia ragazza si bagna un botto quando sente... Brnau, sta arrivando! Che top, signori! Top! Sì, sì, sì! Io sono Capucetto Rosso! Sì, io sono Capucetto Rosso! Faccio l'occhiolino più non posso! Eee... Sorrisi, sorrisi, smile! Eee... Mi hai fatto da ridere da sola come una spastica! Eee... Devo cambiare spacciatore... Oh... 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 Adoro... Sono la più figa del paese... Oh Dio! Oh Dio! Only you... It's time! Moreno! Un giorno farò il cantante... Mi farò chiamare... Oh... Che nome! Sarò sulla bocca di tutti... Ah... Mi sono appena nominato! Ah... Ah... Mi sono nominato di nuovo! Ah... L'altra sera... L'altra sera... E dico l'altra... Sono andato a caccia e ho trovato una lepre signori! Ah... Ah... Una lepre! Molti di voi non sanno neanche che forma abbia una lepre! Beh... Nemmeno io l'ho divorata in due secondi! Che dolce il rumore delle sue ossa che scricchiolavano mentre io la masticavo e lei... Che dolce il suono delle sue ossa che scricchiolavano e il sangue che schizzava e io che la mangiavo, mangiavo... Che ne vuole una? Salve sono sempre io! Sono Paola della team! Oggi le volevo offrire un'offerta! Mamma mia che le giuro! Passa Vodafone! Devo smetterla di venire al lavoro ubriaca! Nina na... Nina oh... Questo bimbo... A chi lo do? Lo daremo... A un'offerta della Vodafone che non può perdere! Sono ubriaca persa! Detto ciò io spero tantissimo che il video di oggi ti sia piaciuto! Sì! Sì! E come sempre lascia un bel pollicione in su qui sotto al video! E se ne vuoi un altro... Beh... Sorridi! Eh... Sono stato un miglior sorriso 2016! E anche 2015! E dura la vita da sorriditore! E devi sorridere sempre! Sempre! Che sorriso! Ma detto ciò io spero tantissimo che il video di oggi ti sia piaciuto! Lascia un pollice in suuuu! Ahahahahahah! Perché io farò... Il cantante lirico! Che sorriso! Che sorriso! Che sorriso! Che sorriso il top! Iscrivetevi al mio canale!